Le relazioni con Robatec ad oggi sono molto elevate a livello di prestazioni e di integrazione sulla nostra domanda. Siamo riusciti a raggiungere dei livelli tecnici che hanno permesso a noi di dare un prodotto molto confezionato per l'esigenza del cliente. Gli prodotti Robatec applicano dei piccolissimi punti di colla direttamente sul sigillo di stato, dopodiché il sigillo di stato viene prelevato dal magazzino direttamente dalla macchina e applicato sul collo della bottiglia per garantire un miglior mantenimento del sigillo stesso sulla bottiglia. In questa applicazione di Temper Evident Robatec propone dei sistemi di diffusione della serie Concept Green Line versione B con un programmatore dei tratti colla integrato a SK40 ed è pistola Speedstar in formato 3 o 4 pistole dipendenti dalla tipologia di sigillo AL-U. Sono pistole estremamente veloci per l'applicazione di punti veramente sottili. Sono pistole completamente coimentate e soprattutto sono pistole della grandissima durata. Penso proprio che il valore che ha portato Robatec in noi e che noi abbiamo quindi poi tradotto in beneficio ai nostri clienti sia la prova nel ripetuto business che abbiamo con Robatec del grado di soddisfazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.